In nome del governo italiano e del ministro degli esteri italiani desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all'Ucraina, al ministro della cultura Kraschenko e al sindaco Trujanov per la decisione presa dall'UNESCO di iscrivere la città e il porto di Odessa nella prestigiosa lista dei siti del patrimonio mondiale culturale. L'Italia ha fortemente sostenuto la candidatura della bellissima città di Odessa che vanta anche un profondo legame storico con il nostro paese. L'iscrizione di Odessa nella lista UNESCO testimonia anche il doveroso impegno della comunità internazionale alla tutela del suo straordinario patrimonio culturale esposto alla minaccia del conflitto e rappresenta anche un riconoscimento dello straordinario coraggio con cui l'Ucraina sta lottando per la difesa della sua libertà ed indipendenza.